Siamo con il segretario della Camera di Commercio di Torino, un'altra giorni che è partita il mondo camerale qua nel capoluogo piemontese. Cosa significa innanzitutto per voi che ospitate davvero centinaia di delegati? Intanto un bello sforzo organizzativo perché non è stato da poco portare appunto questi numeri a Torino. Il Rush l'abbiamo fatto nell'ultimo mese, abbiamo messo 15 persone a tempo pieno, sabato e domenica compresi, a telefonare per invitare da tutte le parti del mondo a Torino. I risultati si vedono, abbiamo più di 1100 delegati al momento e ne aspettiamo ancora perché stanno ancora arrivando in questo momento ad iscriversi. Davvero è rappresentato tutto il mondo, tutto il mondo dell'economia, tutto il mondo delle imprese. Qual è il messaggio che volete lanciare anche in questo momento di crisi globale? Ci sono segnali di ripresa ma immagino sia un momento di confronto di tutto il mondo? Sì, è soprattutto un momento di confronto di benchmark all'interno del nostro mondo. Le Camere di Commercio esistono in tutti i paesi del mondo ma nei diversi paesi hanno configurazione diversa. In alcune parti sono pubbliche, altre private e è importante per noi ritrovarci, confrontarsi, confrontare i modelli di business, comportare i processi e le cose che facciamo sostanzialmente, imparare l'uno dall'altro. Questa è una grande occasione che dobbiamo prendere al volo.